Lo Stato della Giustizia in Abruzzo nella relazione del Presidente del TAR Umberto Realfonso assieme al Presidente della sezione staccata di Pescara Paolo Passoni. Il Covid ha condizionato tutto e non si possono usare toni trionfalistici ma nonostante tutto il lavoro non si è interrotto e l'impegno è stato massimo, ha detto. Tra rinvii ex legge si sono dovute rinviare ben 43 cause che erano maturate per la decisione del merito. I rinvii sono stati in numero abnorme, 122. Il problema dell'arretrato è sempre evidente ma è legato anche agli organici e alle carenze di personale. Ci saranno udienze straordinarie però di smaltimento del progresso. Un aiuto è arrivato dalle cosiddette sentenze brevi. Grazie a queste si è raggiunto un tempo di definizione dei relativi contenziosi. Di circa 31 giorni dal deposito ha consentito una definizione del 26% delle nuove cause introitate nel 2021. I numeri. Nel 2020 23 le udienze e 903 provvedimenti adottati, definiti con sentenze ordinarie e 386 ricorsi. I procedimenti conclusi ammontano a 447. Al 31 dicembre 2020 pendenti 1914 ricorsi. Diverso il lavoro in materia urbanistica di rilevo e un allunlamento sul ricorso della soprintendenza della variante della disciplina dei centri storici delle frazioni dell'Aquila. Molte sentenze in materia di installazione di infrastrutture di telefonia e per impianti rifiuti. I ricorsi di amministrazioni contro altre amministrazioni sono in costante aumento. In materia di appalti pubblici i depositi di nuovi ricorsi sono calati del 27,6% mentre le sentenze sono aumentate. A parte di lavoro e servizi sono stati oggetto di numerose decisioni. Abbiamo cercato di recuperare. Quindi intensificando la fissazione delle udienze di merito caricandoci soprattutto delle sentenze cosiddette semplificate o brevi. Cioè di quelle sentenze che il codice consente di adottare in caso di ricorsi tra virgolette facili. Solo che noi non abbiamo utilizzato solo per ricorsi facili ma per tutti i ricorsi che consideriamo particolarmente delicati o di urgenza. Siamo riusciti dopo vari no ad avere per l'anno quest'anno, l'anno scorso per quest'anno, tre udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato con il quale prevediamo di abbattere altri cento ricorsi. Io non ho veramente grida trionfalistiche da dire perché la situazione è ancora difficile e per quanto abbiamo fatto non siamo soddisfatti. Forse non avremmo potuto fare di più, questo lo posso dire in scienza e coscienza. Ho sempre cercato di mantenere un rapporto aperto anche con tutte le parti. Il presidente della sezione di Pescara, Paolo Passone, ha evidenziato le criticità relative al personale. Il deficit non è stato superato. Ha ricordato alcune delle pronunce più significative come l'accoglimento dei ricorsi della Regione e del Comune di Bussi contro la decisione del Ministero di autoannullare l'appalto per la bonifica dell'area inquinata. Diverse le vertenze universitarie è dall'inizio 2021. Una delle pronunce più importanti ha riguardato le proroghe di concessioni dei maniali marittime.